Resta in carcere Enrico Guidi, il 44enne di Sansepolcro, che lo scorso martedì aveva esploso dalla finestra di casa sua alcuni colpi di fucile contro due amici. Il GIP del Tribunale di Arezzo, Pier Giorgio Ponticelli, infatti, pur non avendo convalidato l'arresto non avvenuto in flagranza di reato, ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo accusato di tentato omicidio. Il 44enne ieri mattina si era presentato di fronte al giudice, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Non ci può essere la sussistenza di pericolosità sociali e reiterazione di reato. A scatenare il folle gesso, lo scorso martedì sarebbe stato il ritiro della patente di guida. C'era stata una precedente sospensione della patente, poi una revoca, era stata ritirata dai carabinieri. Sempre per guida in stato? La revoca per non aver ottemperato alla sospensione della patente. Perché? Quindi aveva guidato in regime di sospensione e quindi era stata revocata. Da quel momento Enrico Guidi avrebbe perso il lume della ragione. Lo scorso martedì avrebbe infatti chiamato i carabinieri minacciando una strage, poi si sarebbe barricato in casa ed avrebbe sparato contro i due amici, pensava fossero carabinieri, avrebbe detto. Adesso si va verso l'incidente probatorio al quale seguirà una perizia psichiatrica per stabilire le condizioni del 44enne che al momento degli spari sarebbe stato in stato di ebrezza alcolica. In adesione a quella che è stata la richiesta di incidente probatorio fatta dal pubblico ministero dottor Dioni, noi siamo entrambi concordi in questa domanda. Anzi, l'avremmo fatta noi perché ci sono serie possibilità che questo soggetto venga dichiarato una certa incapacità psichica. Ciao.